la capa di fratelli d'italia in bilico tra novecento e contemporaneità vola nei sondaggi grazie ai down di salvini a un cerchio magico di coetanei cresciuti con lei nell'emmesian un apparato teorico fluttuante gioca a fare la destra contro il resto del mondo come modello avrebbe orban per chi ci crede il fenomeno è appena compiutamente esploso pur andando in crescita da anni metà influencer stile fedez metà onorevole angelina stile anna magnani nell'omonimo film post finiana post berlusconiana per certi versi post salviniana post insomma quasi tutto senza essere ex praticamente di niente al suo trentesimo anno di politica giorgia meloni ha infine imboccato una strada che prima nessuna mai lei 44 anni leader di fratelli d'italia modello politico lungheria di orban è pronta a diventare premier mi preparo a governare la nazione ha detto incalzata da lucia annunziata proprio nel giorno in cui i sondaggi hanno certificato l'ennesimo sorpasso del suo fdi secondo partito a un'incollatura dalla lega